Il merito della donazione che i cittadini sensibili offrono a chi sta attraversando un periodo di grave malattia. Così la LATOS si propone al Parco Archeoderi di Bova Marina nella Domenica delle Palme, dando all'arte un motivo in più per continuare a vivere e alla vita un'occasione in più per salvarsi. Direttrice, una scelta che ricade la Domenica delle Palme, ma soprattutto in un museo. Per quale motivo? Oggi è una giornata molto importante per noi perché coniughiamo un momento di solidarietà alla cultura. Ospitiamo infatti l'associazione LATOS Bova Marina con la loro emoteca per sensibilizzare tutta la comunità nei confronti della donazione del sangue. Con un piccolo gesto riusciamo a salvare una vita, per cui siamo molto lieti di ospitare qui questa associazione e di rendere ancora più intenso il rapporto che questo museo vuole avere con la comunità del territorio. Per tutti i nostri volontari donatori naturalmente offriamo una visita guidata alla scoperta di questo luogo e quindi speriamo che queste iniziative siano delle iniziative cadenzate, quindi sempre più frequenti all'interno di Archeoderi. Sono Vittoria Casire, la Presidente della LATOS Bova Marina. È da 12 anni che noi operiamo sul territorio comunale e anche negli altri comuni qua vicini. Questa mattina ci troviamo qua a San Pasquale nel Museo Parco Archeoderi Archeologico di Bova Marina per una giornata di donazione sangue. Chiaramente tutti quanti sapete cosa vuol dire, sappiamo cosa vuol dire donare sangue. Donare una goccia di sangue può salvare una vita. Quindi io incito a tutte le persone di fare questo gesto solidale.